Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, ora vi canterò una canzone sui dinamoni, certo siamo a giocare il nome paleontologo, paleontologo, lo siamo. Tutte le cose che succedono nel passato, noi non le possiamo vedere. Ma i dinosauri lasciano le ossa in giro e quindi possiamo rivederli nei musei. Dino, dinosauri, dinosauri che volano, che volano, che camminano, che camminano, che camminano, che nuotano, che nuotano, che nuotano, che nuotano. Anfilosauro, la che ossa, tirannosauro, unghie minuscole, Veloci il ratto, tanto veloce, unghie dei piedi, proprio tutti su, alquanto assai, sempre solo una, oppure tutte, una dei due piedi, in questi due piedi del veloci il ratto, c'erano due unghie in su, così, una qui, una al piede sinistro e una al piede destro. Tam tam, dinosauri, dinosauri, dinosauri. Ciao, ciao a tutti, iscrivetevi al mio canale.